Buongiorno, ci troviamo qui a Finale Emilia in via Botticelli, presso la piscina comunale di Finale, quella esterna. Siamo qui intanto per farvi vedere i lavori effettuati sulla strada che hanno comportato una completa riasfaltatura della strada del centro cittadino e per ricordarvi che nelle prossime settimane proseguiremo con il piano di asfaltature programmato con delle altre strade che necessitano di un intervento risolutivo. Questa asfaltatura di via Botticelli è un esempio di come stiamo lavorando, in questi anni stiamo continuando a lavorare per il bene della città per fare migliorare l'assetto della viabilità e in questo caso di via Botticelli anche perché in previsione della prossima apertura della piscina vogliamo essere pronti in tutti i particolari.